L'avvio di una collaborazione Stato-Territorio finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione di immobili e aree urbane non utilizzate in stato di abbandono è l'obiettivo del protocollo di intesa che nel pomeriggio di ieri è stato siglato presso il Comune di Chieti, dal direttore regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio Edoardo Maggini e dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio. L'intesa consentirà al Comune di Chieti, promotore della richiesta di finanziamento, di partecipare al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma straordinario per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie. Con la firma dell'accordo, l'Agenzia del Demanio si impegna a supportare il Comune nella strutturazione del progetto Masterplan Periferie Chieti. Il Comune ha progetti da presentare entro il 29 agosto per 10 milioni di euro, tre gli ambiti urbani di intervento previsti dal protocollo di intesa. Nel primo ambito si prevede l'ampliamento dei parcheggi pubblici in piazza Falcone Borsellino, traduzione 200 posti auto in più a ridosso del centro con relativa riqualificazione del sistema di collegamento pedonale, ovvero la scala mobile. Nel secondo, la riqualificazione dell'area di piazza San Giustino, la realizzazione di nuovi arredi urbani e contestuale spostamento dell'attuale parcheggio pubblico, via le auto ai piedi della cattedrale e automobilisti dirottati verso il parcheggio che nascerà dall'ampliamento di quello a valle, servito dalla scala mobile e presto anche dal tunnel pedonale. L'ambito di intervento 3E porta invece dall'altra parte della città, nell'isolato ex caserma Berardi, dove sono in progetto la costruzione di un parcheggio semi-interrato, la sistemazione della viabilità interna con la costruzione di un collegamento trasversale carraio, la realizzazione di un parco e l'ottimizzazione dei parcheggi a raso a servizio degli uffici che si andranno ad insediare nella struttura. Infine, la riqualificazione dell'area ex scuola media Vicentini, che sarà destinata ad attrezzature sportive e ricreative a servizio delle scuole.